Quasi 40 anni fa, nel dicembre 1981, il regime comunista polacco impose la corte marziale e Solidarno e anche altre organizzazioni, i loro membri furono incarcerati perché avevano manifestato per loro diritti. Il popolo polacco voleva la democrazia, come tanti altri europei dei paesi dell'Europa dell'Est, volevano la libertà di scegliere il proprio governo, volevano la libertà di parola, la libertà mediatica, volevano porre fine alla corruzione, nonché volevano anche dei giudici indipendenti che tutelassero i loro diritti. I popoli dell'Europa centrale e orientale volevano inoltre diventare membri della famiglia comune basata su democrazia e diritti, perché è proprio questa l'Europa e è quello che l'Europa ha sempre rappresentato. Onorevoli deputati, la recente sentenza della Corte Costituzionale polacca mette in dubbio molte di queste cose. Noi siamo preoccupati dall'indipendenza del sistema giudiziario da tempo, perché l'immunità dei giudici è stata spesso rimossa. I giudici stessi sono stati rimossi dal ricarico senza giustificazioni e questo minaccia l'indipendenza del sistema giudiziario, che costituisce un pilastro portante dello Stato di diritto. Noi abbiamo adottato numerose misure, continuiamo un dialogo costante su questo fronte, ma purtroppo la situazione è peggiorata. La Commissione europea in questo momento sta valutando attentamente questa sentenza. Posso però già dirvi oggi che sono fortemente preoccupata, perché essa mette in discussione la base dell'Unione europea. Costituisce una sfida diretta all'unità degli ordinamenti giuridici europei. Solo un ordinamento giuridico comune, che riconosce uguaglianza di diritti, di libertà, fiducia ravvicendevole e pertanto da politica comune, è quanto possiamo attenderci. Ed è la prima volta in assoluto che una corte di uno Stato membro ritenga che i trattati dell'Unione europea siano incompatibili con la Costituzione nazionale. E questo avrà anche delle conseguenze forti per il popolo polacco, perché la sentenza ha un impatto diretto sulla protezione del sistema giudiziario. Senza giudici indipendenti i cittadini beneficeranno di una tutela minore e pertanto i loro diritti sono più a rischio.